Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Rainbow Six Siege vi mostrerò il terzo spot nella mappa confine. Dovete entrare in questa stanza, qui praticamente, e salire qui sopra. Non rompete queste due bacinelle, questi due oggetti, qualsiasi cosa sia, no? Mi raccomando. Quindi salite su, fate un bello scatto in avanti per salire su questi oggetti. Rompete questi, abbassatevi e guardate attentamente fino a quando non esce fuori il comando per scavalcare. Quindi dovete prendere ovviamente il punto giusto. Abbiate pazienza. Ecco, questo è il punto giusto. Salvatevi la schermata. E voilà! Siete saliti in alto, potete andare avanti, rompere questi oggetti e quindi collocarvi qui. Non appena, diciamo, qualcuno entrerà da questa finestra, potrete farlo secco. E avete la possibilità di spostarvi in qualsiasi momento e nascondervi magari qui o rimanere in cima qui. Insomma, potete sbizzarrirvi come meglio preferite.